Ma Carmelo Vitello ha ribadito non entrerai in Consiglio Comunale, ma perché? La mia appunto, come già anticipato, è una scelta politica non personale e neanche amministrativa, ma proprio una scelta politica di campo coerente con quanto realizzato finora nel Partito Democratico con il Partito Democratico. La convinzione ad oggi che questa esperienza politica sia ormai una pagina a chiudere, una pagina con un epilogo già scritto, a cui non serve poter mettere una firma di chiusura. Questa è un'esperienza difficile e triste per la nostra città che, come dicevamo, già a tempo addietro va necessariamente definita, chiusa e va organizzata il futuro. In questo contesto io come segretario del Partito Democratico ci sarò sul campo e continuerò con più forza la mia azione politica per far sì e per esserci nella città, per continuare la nostra azione politica, ma principalmente per organizzare e lavorare per il futuro, per prepararci al 2016, ad organizzare la nostra città futura che risponda finalmente alle esigenze reali dei nostri cittadini. I burocrati del Comune hanno comunque deciso di far ricoprire il posto che era probabile andasse a toccare a te a quello che è già l'attuale consigliere comunale Carmelo Vassallo Todaro. Il posto quindi che lui fa rimanere vacante potrebbe essere destinato quindi a Carmelo Vitello. Cosa succederà se Carmelo Vitello dovesse venire appunto chiamato? Beh Carmelo Vitello ha già ribadito e lo ribadisce oggi appunto che non ha intenzione di entrare in questo consiglio comunale. Quello che è successo in questi giorni dopo essere chiamato agli onori della stampa di tutti i livelli ad essere quasi con dato certo ad essere chiamato ad accettare la nomina di consigliere comunale ad oggi appunto si scopre che Carmelo Vassallo Todaro di cui non ha nessuna colpa ma sarà chiamato a rigiurare per poter sistemare quello che forse è stato un patatrack dei dirigenti o dell'amministrazione. In questo senso comunque mi sento tranquillo oggi ho voluto dare le mie motivazioni ribadendo al fatto che anche nel caso della supplenza, nel caso appunto io nei prossimi giorni sarei chiamato a ricoprire questa carica la mia è una decisione di campo, una scelta politica ben chiara, netta e definitiva. Il consiglio comunale ha approvato la possibilità per la giunta di presentare un piano di riequilibrio avrà tempo 90 giorni. Nell'attesa che l'amministrazione prepari questo piano da sottoporre al consiglio il PD, visto che il sindaco è innegabilmente un esponente del PD e tesserato del PD darà un suo indirizzo o aspetterà che il sindaco presenti la sua proposta? Beh, sul fatto del sindaco, dei rapporti con il sindaco, tengo a ribadire e a precisare ad oggi in maniera chiara e netta anche lì che il sindaco al momento, il direttivo, il quadro dirigente di questo partito si espresse in modo chiaro e su questo ancora purtroppo questa linea è presente e regge di cui non c'è condivisione politica nell'iniziativa e quindi in questo senso nelle cose fatte purtroppo ad oggi definite in modo negativo e neanche nel presente c'è stata condivisione in iniziativa politica. Nonostante tutto in questo momento sarebbe facile per questo PD ricordare quanto ha detto al signor sindaco nel nostro avvicendamento all'interno del PD sulla materia finanziaria per come salvare questo comune dal cercare di rispondere di rendere la spesa produttiva, la spesa del personale produttivo, dal cercare di far rientrare le tasse vase dalle proprietà del comune, dal risparmio degli affitti. Sarebbe facile poter ricordare tutto ciò, ma in questo momento riteniamo più utile dare il nostro contributo, il nostro apporto propositivo alla città e lo faremo. Lo faremo, abbiamo già iniziato a farlo, lo faremo nei prossimi giorni dando indicazioni ben chiare per poter dare la possibilità a questo comune di salvarsi da quello che sia il dissesto finanziario. È stata una conferenza stampa che ci ha permesso di chiarire la posizione del segretario del circolo del PD Carmelo Vitello, la sua posizione politica e anche la sua posizione personale. Negli ultimi giorni si erano innescate delle polemiche che erano pretestuose e probabilmente puntavano anche a colpire la sua figura e con lui quella di ogni iscritto, militante, simpatizzante di questo Partito Democratico che oggi abbiamo voluto chiarire con forza che il nostro obiettivo è Favara 2016, è la città futura. Da qui continuiamo quel percorso che abbiamo già lanciato ed è un percorso che vuole aggregare soggetti, persone, tutti coloro che amano e credono in questa città e insieme a loro costruire quello che è il progetto per il futuro. Questa esperienza non ci appartiene e quindi abbiamo ritenuto giusto il partito con la deputazione e con i suoi massimi rappresentanti di fare una scelta diversa. Nell'eventualità in cui questo posto in Consiglio Comunale dovesse concretizzarsi oggi o per il futuro, noi in questa partita non giochiamo, ci prepariamo per Favara 2016, ci prepariamo per la città futura.